Benvenuti in questo nuovo tutorial per Photoshop dove vedremo come trasformare una fotografia in un disegno su sfondo nero come se fosse disegnato su carta nera abbiamo già visto in altri tutorial come trasformare in disegno su sfondo bianco vediamo quest'altra ulteriore versione quindi ci apriamo la finestra dei livelli, dal menu finestra spuntiamo livelli e duplichiamo il livello di sfondo quindi CTRL J a tastiera oppure trasciniamo nella seconda icona in basso a destra qui modifichiamo il metodo di fusione da normale in dividi ci troviamo in questa situazione iniziale va aggiunta una sfocatura a questo livello quindi dal menu filtro ci spuntiamo sfocatura, CTRL sfocatura e doseremo in base alla intensità di questa sfocatura l'intensità del nostro disegno più andiamo verso destra e più torna ad assomigliare una fotografia più andiamo verso sinistra e maggiore diventa il tratto dell'ipotetico disegno quindi troviamo il nostro equilibrio potremo poi riprendere comunque il controllo successivamente se c'è qualcosa da cambiare confermiamo e aggiungiamo un livello di regolazione quindi trasformiamo in bianco e nero quindi dal pallino centrale spuntiamo bianco e nero e facciamo le nostre regolazioni per avere un bianco e nero che possa sembrare un disegno a matita carboncino quindi in base ai colori contenuti dell'immagine avremo più o meno intensità sui tratti che vediamo direttamente sull'immagine quindi ci regoliamo vedendo direttamente cosa stiamo facendo chiudiamo la finestrina, aggiungiamo un altro livello di regolazione quindi il pallino centrale e questa volta spuntiamo inverti inverti trasformerà il disegno su nero quindi quello che avevamo fatto prima adesso lo troviamo su nero è un pochettino fiacco cioè si sono persi dei dettagli con questa trasformazione per questo dicevo prima che il controllo di bianco e nero può essere ripreso quindi basta fare un clic per attivarlo doppio clic per farlo tornare fuori e rivedere sempre muovendo i cursori l'intensità del tratto quindi ci sarà magari la soluzione migliore per questo intervento su certi ci sarà una manifestazione più forte in altre più debole e li proviamo un po' tutti finché troviamo la nostra soluzione così come abbiamo un disegno bianco su nero ma possiamo anche trasformare questi tratti in colore quindi se attiviamo il livello più alto e aggiungiamo ancora un altro livello di regolazione spuntando tinta unita la prima voce più in alto scegliamo un colore magari iniziamo con uno e poi eventualmente riprendiamo se le cose non ci piacciono ok per confermare e va modificato il metodo diffusorico quindi da qua scorriamo finché troviamo la soluzione ideale per il nostro disegno su carta nera non saranno tutti buoni anzi però possiamo magari trovarne due o tre che ci stanno bene e che soddisfano le nostre esigenze anche su questo con sottrai non è più rosso ma invertito con il colore complementare ci può anche star bene così fatto siamo riusciti ad avere un'ulteriore variante su elaborazioni di disegno ricavate da fotografie vi ricordo il vostro mi piace naturalmente se vi è piaciuto il tutorial di mettere un commento se ne avete voglia di dare un'occhiata a tutti i miei contenuti che sono elencati nella descrizione sotto al video con i link diretti per vedere tutti i miei contenuti grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima